esprimere tali semplici e immense qualità ad una temperatura stilistica e sentimentale sempre altissima questa è certo una delle glorie di picasso e ancora l'abbracciare con la sua personalità tutti gli aspetti della problematica moderna riassumere in sé tutti i momenti della lunga storia dell'uomo rivalutandoli e vivificandoli nell'attrito con la sua sensibilità dominare tutti i campi del reale rivelandone insieme la convenzionale apparenza esteriore sia pure ridotta a cifre figurali di difficile riconoscibilità e la più segreta dimensione mentale sempre con una potente carica di vitalità e una forte scossa emotiva sempre nell'intento di creare un'immagine completa e complessa dell'uomo ma vera fino ad essere spietata integrale a costo di apparire caotica e dispersiva con picasso la pittura per la prima volta giunge a rappresentare per immagini non solo l'apparenza della realtà e nella realtà i sentimenti ma anche i contenuti intellettuali relativi alla percezione della realtà stessa per questa via la rappresentazione si fa racconto per questa via l'esperienza totale dell'artista entra in gioco in ogni dipinto la pittura non è più un ideale astratto di bellezza formale o una lirica configurazione delle apparenze visibili è la narrazione oggettiva del pensiero che l'artista ha di una cosa o di un fatto dell'emozione che l'artista sente di fronte a quella cosa o a quel fatto l'esteriore rassomiglianza tra il modo di apparire della realtà visibile e le immagini dipinte non ha più valore alcuno e l'artista non ha più bisogno di avventurarsi nell'immenso dominio della natura alla ricerca di motivi e di impressioni in se stesso porta il suo patrimonio di esperienze conoscitive ed emozionali e da se stesso deve estrarle per rilevare la configurazione del reale nella sua interiorità per questo una volta picasso che non dipinge mai sul modello né dal vero affermato io non cerco trovo